la pacchia fino ai 20 anni la mia vita è stata una cuccagna senza libri e lavagne professori e presidi e senza il lavoro che ho sempre abburrito poi è morto mio padre e la pacchia è finita io ho sempre considerato lo studio o il lavoro l'onore degli idioti ma adesso commento adesso il vento è mutato per farti mutare nel momento più adatto per te